Chi è tirato a noi? Aspetta un attimo! Ma io ricominciamo! Aghero! 10! Asta per Aghero! Morgan 10! Morgan, tiriamoci Aghero! 15! 20! 25! 30! 40! 45! 50! 55! Hai visto, davvero? 56! No! 57, Antonio! 58! Ma io dico che era il mio obiettivo! 59! Non sapevo che Aghero! 62! 63! 65, Antonio! 30! E' lui che è ingravitato, la figlia di Maradona, Giannina, 67! Ma poi si sposa? 60! 72! Si è sposato? E' coglianato! 75! Ehi, ti faccio più chiamare, devi viener a play! 65, uno! 75, due! 75, tre! CODO! Non lo volevo, ma lo voleva tanto Nucci! Io che faccio più chiamare, che ti hai scritto? Un momento, giusto! Io faccio più chiamare! Giusto, per... Quasi, puoi che... No, questa no! No, no, questo no! Non fai un coglione, eh, necco! No, lo so! Eh, no, 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 non fai un coglione! No, no, lo so, perché vuoi? Dici che non so io! Ciao! Bellissimo, ciao! Eh, nessuno ci va, se ci va, qualcuno te lo dico! Tu, io, te stai a te, questo mi incontro! A me non puoi fai un coglione! Mi va là, no! Quanto ho pagato? 65? 65! E io ho sballato, comunque, aglio, eh! Contro! Non ho sballato, che devi prendere i 140, 140, questi, di... Manuè, comunque, c'è lo dicevi, devi prendermi l'inferno, le pere dell'inferno, è quello che fa! E che lui vuole, pure la che era, voglia di tanto più! È la volta! Ah, non ci sta! Cioè, dopo questa polemica, stucchevole, veramente! Aperto da Elvio! Ma io non sto dicendo, io sto scherzando! Chi è che? E che ti metti a favore! Io sto pazziando, tu stai dicendo seriamente, sto dicendo, io sto pazziando, io sto pazziando, mi vado a dire, sto... E me pure io sto rivedendo! Pure io non sto dicendo seriamente, pure io sto scherzando, non è che tu dici, lo dico fino a domani, e così! Ah, boh, però, su cose che vengono a dirci, ma io... Ah, boh, se mi fai due, non mi capite niente, ti dici così, capisco? E' bene! E' tu! E' dove è un? Venti! Venti tu? Trento! Trento e uno! Tira Morgan, eh! Trento e uno! Trento e uno! Trento e uno! Trento e uno! Alea, fammucca! Trento e sì! Vai Morgan, va! Trento e no! Quarato! Quaranta e uno! Quaranta e cinque! Dai, cazzo! Quaranta e cinque e uno! Quaranta e due! Sei! Quaranta e sei e uno! Quaranta e sei e due! La prossima, Morgan! Quaranta e tre, ci ho messo! Devo giusto far pagarti! Ale! Cazzo, eh! Ma qua se non dico niente a nessuno, cioè che io... Ma io, vedi che ho finito, eh! Tu tieni cento miliardi! No, devi rimanarti quaranta e... Ho finito gli attaccanti! Scusa, prendi la mia situazione, io ho solo sessanta e cinque di credito, quindi non è che posso tirare fino a sassato, ma ne faccio uno che alla fine! Chi è che te le chiamo? No, 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 per farti dire che secondo me... Sto accanto in uscita! Si fanno un po' le asse senza calcolare i credit, secondo me... Si fanno le asse, solo mettendoci d'accordo, Delby, ci hanno messo d'accordo, io e Morgan prima dell'asso, dici la vita! Scusa, tu... Scusa, tu... Scusa, quando uno crede? Sì, eh no, io ho sessanta e cinque adesso! Poi, qua te lo vanno... E' un po' che ti ha attaccato! Ma tu che ti tiene gli attaccanti? Eh, perché... Ma i titolati, fai i colleghi, i segveri mi manca! Ma i secondi attaccanti ci stanno in crescita, ma quelle che ci hanno meno di riscita? 34 eh! Sì, è vero! Ehm... Sì, è vero! Antonio, la guerra lo volevi? Si! Fortemente! Maledettamente! Io volevo! Io lo credo perché tenevo Kirkic, però ti va a vietà! Ti ho tirato la guerra proprio per il gusto di levartelo! Grazie Manuel! Ti adoro! Dai, cosa ne pensa della squadra? Ma noi, chiudi questa, dopo ne facciamo la vita 2! Eh, Ernè! Stai fittiando? Io, Ernè! Vuoi smettere fuori di merda, no? Che stai dicendo quello piano, Ernesta? Non fa cazzate! No, io mi trovo il 39, veramente! Che stai scrivendo? Arshavin 1! No, non fa cazzate! Arshavin 1! Non fa cazzate! Arshavin 1! 1! 2! 3! 3! 3!